Continua la mobilitazione per contrastare il provvedimento contenuto nella riforma del processo civile passato alla Camera dei Deputati e in attesa di essere discusso in Senato che sopprimerebbe il Tribunale dei Minori accorpandolo ai tribunali ordinari con le indagini affidate a una particolare istituzione che dovrebbe essere denominata sezione famiglia. Questa mattina esponenti della magistratura, avvocati, docenti e personalità delle associazioni si sono riuniti in un convegno all'antisala dei baroni del Mascangioino per esporre i danni che provocherebbe la chiusura dei tribunali dei minori e le proposte per mantenerli attivi. Ascoltiamo l'avvocato Mario Covelli impegnato nella tutela di questi tribunali. Il no è necessario, è un no deciso perché la soppressione del Tribunale per i minorenni che ha funzionato in modo ottimale per ben 80 anni cambia completamente le prospettive. Il procedimento a carico dei minori viene effettuato presso sezioni specializzate ma soprattutto manca una procura specializzata che possa perseguire prima che la finalità retributiva, la finalità di recupero del minore. Si propone che i tribunali per i minorenni rimangono in vita così come sono, al limite un accorpamento per tribunali i quali hanno poco lavoro. Effettivamente per esempio, tanto per fare un esempio, il tribunale per i minorenni di Campobasso potrebbe essere accorpato a quello dell'Aquila. Quindi accorpamento dei tribunali che hanno meno carico ma i tribunali devono rimanere in vita per assicurare la funzione che hanno finora svolto. Intervenuto il presidente vicario del Tribunale dei minori di Napoli, Maurizio Barruffo. La legge è ancora in itinere, il nostro Parlamento non l'ha ancora completamente licenziata e poi ci sarà una commissione che determinerà i veri passaggi di questa legge, di questo spalmamento, o io così lo chiamo, del tribunale per i minorenni nel tribunale ordinario. Spalmare il tribunale dei minorenni nel tribunale ordinario credo che sia una cosa molto pericolosa perché fa perdere tutta quella che è una cultura, una modalità di attuazione delle norme e di difesa e di tutela dei minori in un mondo che ha altri interessi e si muove in altre logiche. Come dire, è una piccola azienda che funziona, che viene trasferita in una grande azienda che funziona peggio o in una maniera completamente con altre logiche. Il che fa perdere ovviamente tutta quella che è una caratteristica, una capacità di un tribunale la cui eccellenza viene riconosciuta anche da tutta Europa.